La vita in mare non è facile. Mangi quando non hai fame, bevi quando non hai sete e dormi quando non hai sonno. L'Adriatico è attraversato da una burrasca Forza 7, ma con il Natale alle porte, i marinai hanno voglia di rientrare a casa, nonostante le condizioni del mare. Il motopeschereccio che aveva affrontato gli oceani più pericolosi, naufraga con il suo equipaggio, proprio a poche miglia di distanza dal porto di San Benedetto. Potrebbe esserci qualcuno ancora vivo nel relitto del Rodi? I corpi dei marinai del Rodi vanno recuperati. Andiamo a riprenderci i nostri morti! Non c'è un colore politico a capo della rivolta, ma una città intera che grida forte. I marinai valgono più delle navi! Rivolgiamo ai nostri morti! È questa l'autentica San Benedetto del Tronto. Fiera dei suoi figli e forte anche nelle ore più buie. Dirò del Rodi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti